buongiorno siamo a milano al centro cardiologico monzino con il dottor corrado carbucicchio dottore buongiorno grazie di essere con noi il dottore direttore dell'unità di terapia intensiva ventricolare la vic quindi sicuramente il trattamento spesso importante che sia tempestivo delle aritmie ventricolari tra l'altro uno tra i pochissimi centri in italia vediamo anche l'importanza dell'intervento tempestivo e però partiamo un pochino prima aritmie sicuramente sappiamo i due grandi capitoli atriali o ventricolari vediamo un po la differenza perché le ventricolari sono così pericolose così da richiedere un intervento il più precoce possibile perfetto buongiorno a tutti grazie di questa opportunità sicuramente la vic acronimo dell'inglese ventricola intensive care unit è un'unità operativa nata istituzionalmente nel 2010 che si propone proprio l'assistenza e la cura oltre che la ricerca in termini scientifici applicata a pazienti con aritmie ventricolari sostanzialmente maligne le aritmie ventricolari sono per definizione o chiaramente le aritmie che pongono al clinico o all'elettrofisiologo che poi deve trattarle in termini anche intervenzionali in termini anche chirurgici o quasi chirurgici le aritmie che danno più preoccupazione perché sono le aritmie che portano all'arresto cardiaco e che per la maggior parte nella maggior parte dei casi sono aritmie che se non maligne danno forti preoccupazioni anche in quanto sono espressione di una cardiopatia strutturale vale a dire una piccola parte delle aritmie ventricolari delle tachicardie ventricolari si possono presentare in individui sani possono essere disturbanti possono essere motivo di forte attenzione e disturbanti per la qualità di vita e per il paziente ma non sono espressione di una cardiopatia organica vale a dire di un disagio strutturale o funzionale del cuore del muscolo cardiaco e quindi sono tollerate meglio se le trattiamo meglio se le curiamo nella maggior parte dei casi le aritmie ventricolari sono invece espressione di una cardiopatia strutturale organica di una cardiopatia dilattativa di una cardiopatia ischemica di una di forme congenite di destrutturazione di disarrangiamento del muscolo cardiaco e in questo caso sono aritmie pericolose che portano in certi casi se non trattate se non così se i pazienti non vengono adeguatamente protetti anche alla morte cardiaca alla morte improvvisa negli ultimi ormai 25 anni è pratica comune stratificare i pazienti con cardiopatia strutturale che predispone a arresto cardiaco quindi a tachicardia ventricolari maligne e sottoporre questi pazienti a un impianto all'impianto di macchinette di dispositivi particolari che riconoscono l'arresto cardiaco e intervengono erogando degli shock come fa il defibrillatore esterno che si va anche così estendendo in termini di posizionamento sul territorio e quindi defibrillare automaticamente senza che nessuno intervenga e risolvere la situazione di crisi questo presuppone ovviamente che venga fatta una stratificazione che venga identificata la cardiopatia e che poi il paziente venga seguito negli anni verificando cosa succede il diciamo subito che il defibrillatore impiantabile che diciamo rappresenta per chi non è confidente con l'argomento un pacemaker più grosso che oltre che stimolare può appunto anche liberare dell'energia ha salvato una percentuale altissima di pazienti a rischio medio elevato di aritmie mortali questo che ho in mano è evidentemente un dispositivo impiantabile si tratta in questo caso di un defibrillatore quindi combinate le possibilità di stimolare e di erogare alta energia per terminare l'arresto cardiaco per terminare episodi di fibrillazione ventricolare di ultimissima generazione vedete l'ingombro il volume la shape particolarmente così favorevole rarissimamente questi dispositivi oggi se impiantati ovviamente correttamente nello strato giusto sotto cute o più in profondità creano problemi in termini di fastidio o di così disturbi da ingombro e questo dispositivo combina una terza caratteristica che è quella della resincronizzazione cardiaca vale a dire un terzo catetere con possibilità unicamente di stimolazione quindi di pacing viene introdotto attraverso una vena coronarica in un ramo che va a abbracciare il ventricolo sinistro con esattamente utilizzando le stesse tecniche di impianto di un comune pacemaker anche se questo rende la procedura sicuramente più complessa e più così merita una competenza superiore l'utilizzo di questo catetere la stimolazione da questo terzo catetere consente al cuore di migliorare l'accoppiamento tra i ventricoli quindi di resincronizzarsi migliorando la propria performance è una terapia che va e deve essere sempre applicata in pazienti con scompenso cardiaco quindi con insufficienza cardiaca selezionati secondo certi criteri che quindi vengono non soltanto protetti dalla morte cardiaca ma anche ottengono un significativo miglioramento in termini di qualità di vita e di possibilità di preservare nel modo migliore il muscolo cardiaco il discorso si fa evidentemente più complesso perché quanti più pazienti vengono salvati grazie all'intervento della macchinetta evidente che tanto più frequente sarà l'incidenza di pazienti sopravvissuti con aritmie anche recidivanti in cui non soltanto gli shock si ripetono e quindi causano un disagio quando vengono erogati per salvare la vita al paziente ma le aritmie si moltiplicano sempre più e quindi necessitano di un trattamento che non sia solo l'ultima spiaggia cioè il trattamento pagliativo erogato dalla macchinetta vale a dire popolazione di pazienti crescenti con aritmie ventricolari che non causano più morti improvvisa ma che rappresentano un problema enorme per il paziente per la qualità di vita del paziente perché numerosi interventi vuol dire dolori legati all'intervento che si ripetono e anche perché il paziente comunque non può convivere con tachicardie che continuano a autoalimentarsi perché anche in termini di capacità del muscolo di salvaguardarsi il decorso è sempre in questi casi molto poco favorevole, molto sfavorevole. Direi che la frontiera più avanzata dell'elettrofisiologia che come molti sappiamo consiste nell'ablazione trascatetere cioè in un presidio curativo che non implica chirurgia ma implica una procedura intervenzionale quindi attraverso dei cateteri che vengono avanzati in linea di massima attraverso vene arterie è appunto l'ablazione trascatetere che consente di modificare il substrato quindi andare a correggere questi cortocircuiti che sono espressione della cardiopatia e quindi mettere fine, prevenire la comparsa di nuove aritmie atriali apriamo e chiudiamo una parentesi perché fin qui non abbiamo detto niente delle aritmie atriali abbiamo parlato solo di aritmie ventricolari l'ablazione trascatetere oggi è applicatissima per correggere, per prevenire gli episodi di fibrillazione atriale parossistico per curare la fibrillazione cronica in pazienti che quasi sempre sono dei pazienti sani è una procedura importante, valida, con un'alta quota di successo e che migliora la qualità di vita e consente al cuore di lavorare in ritmo quindi nella maggior parte dei casi eliminando la necessità di anticoagulanti e tante altre cose se scendiamo sotto il piano valvolare e andiamo alle aritmie ventricolari l'ablazione trascatetere ha fatto progressi forse anche maggiori grazie alla combinazione di diversi fattori anche tecnologici oltre che alla sempre migliore e maggior conoscenza del substrato e delle cardiopatie e l'ablazione si propone di minimizzare la quota di aritmie ventricolari in pazienti con aritmie anche molto gravi la VIC all'interno di tutto questo che è già un discorso molto specialistico si occupa da sempre dei pazienti più critici cioè quelli in cui ahimè l'aritmia è talmente evoluta ha fatto talmente il suo corso che il paziente ha già subito numerosi interventi della macchinetta che l'ha tirato per i capelli fuori dal fare una brutta fine ma in cui l'aritmia non si riesce a controllare ci sono i pazienti cosiddetti con la tempesta aritmica con gli storm aritmici questi pazienti la macchinetta può intervenire quanto vuole ma il paziente si trova in una condizione di continua instabilità legata all'aritmia quindi i problemi si moltiplicano con un sinergismo maligno per cui il paziente diventa veramente un paziente altamente critico in termini di dolore, in termini di scompenso in termini di una macchinetta che alla fine non riesce neanche più a fare il suo dovere questo è l'ultimo passo che oggi ritengo vada prevenuto vada anticipato in termini di intervento e che però rappresenta la popolazione selezionata ai tempi quando è nata la VIC la VIC si occupa ovviamente anche di alta tecnologia e di procedure altamente specializzate per conoscere e trattare le aritmie ventricolari in senso un pochino più allargato sicuramente l'ablazione anche negli anni è anche cambiata molto vediamo anche oggi le tecniche più sofisticate che forse permettono anche di intervenire su pazienti che un tempo non avrebbero potuto avere accesso a un intervento complesso magari penso pazienti con comorbidità, pazienti anziani, fragili quindi oggi invece forse l'approccio è diverso assolutamente, mi vengono in mente tre spunti che sono poco coordinabili tra loro però tre così motivi che in parte chiariscono la situazione e rendono conto sicuramente della complessità del quadro il primo elemento è oggi per identificare e trattare il substrato di un'aritmia mettiamo insieme una serie di notizie, di informazioni che vengono da più fronti allora non soltanto un segnale elettrico addirittura una mappa elettroanatomica che permette di costruire il segnale elettrico durante attività cardiaca normale o durante aritmie all'interno della superficie cardiaca dove si arriva con i cateteri in modo assolutamente dettagliato e accurato a questo si aggiunge molto imaging cioè molta caratterizzazione del substrato che deriva da altre metodiche per esempio durante le procedure che normalmente facciamo per questi pazienti l'utilizzo di una sonda eco che arriva dentro il cuore e permette di dettagliare i contorni di un eventuale infarto di un eventuale aneurisma in modo assolutamente preciso combinata per esempio e qui il lavoro è work in progress ma i risultati si vedono già la risonanza che permette di combinare informazioni derivate da un altro tipo di tecnologia punto 1 punto 2 come dico metto insieme un po' di cose ma che rappresentano veramente danno l'idea del esatto l'approccio epicardico cioè il fatto che essendo il cuore tridimensionale e navigando noi storicamente sempre all'interno della cavità cardiaca per esempio il ventricolo destro per esempio il ventricolo sinistro arriviamo col nostro cateterino che fa da bisturi elettrico guidato dalle informazioni dalle mappe che sappiamo fino a un certo punto della profondità del muscolo cardiaco e non sempre riusciamo a raggiungere e a così modificare interagire col substrato che si trova in profondità o addirittura sulla superficie chiamiamo l'esterna del cuore dove ci sono le coronarie dove la faccia del cuore guarda il pericardio che è la membrana esterna bene da parecchi anni ma in modo sempre più efficace e sempre più preciso attraverso delle procedure sempre intervenzionali o con delle tecnologie mini chirurgiche mini invasive noi introduciamo i nostri cateteri dalla superficie esterna del cuore quindi non arrivando da vene o arterie ma da un piccolo tramite da un piccolo accesso sotto lo sterno a volte questa tecnica diventa un po' più chirurgica e allora il discorso diventa un po' più complesso ma nella maggior parte dei casi si riesce a ottenere questo tipo di accesso minimizzando il rischio evidentemente di andare a interagire con strutture che si trovano in vicinanza e il terzo punto pazienti estremamente critici in cui le aritmie hanno contribuito a rendere ancora più critico lo stato di scompenso che già normalmente preesiste per colpa della grave cardiopatia quindi del fatto che il muscolo per gli infarti per la cardiopatia primitiva ha perso molto di capacità di lavorare l'utilizzo di sistemi di assistenza i cosiddetti ECMO sistemi di assistenza cardiorespiratoria diciamo quindi pazienti che in shock cardiogeno non potrebbero mai andare incontro a una procedura che li espone a una criticità ulteriore ma che invece grazie a questi supporti emodinamici o respiratori vengono aiutati e quindi fanno una procedura esattamente come gli altri questo è un caso non proprio ordinario di un paziente con una cardiopatia aritmogena del ventricolo destro comunque sui generis e questa è semplicemente una visione radiologica del cuore nel momento in cui si fa una angiografia del ventricolo destro quindi una ventricolografia destra questo frame è la base dell'angiografia del ventricolo destro che vedremo tra un attimo che viene effettuata iniettando del mezzo di contrasto da fuori dall'esterno in questo cateterino che arriva in apice ventricolare destro vorrei farvi notare come sia un cuore dove al di là dei fili che riguardano i collegamenti dell'elettrocardiogramma o altre cose sia un cuore dove c'è molto ingombro c'è molto dentro questo è vedete l'estremo del cardioverter quindi di questa macchinetta a cui arrivano o da cui partono in questo caso due cateteri uno vedete questo più sottile che finisce in atrio destro e uno questo più voluminoso e ingombrante con questo grosso telaio di metallo che è un secondo una secondo coil si chiama quindi una seconda intelaiatura di metallo si trova qui sopra l'atrio destro in questa posizione che è il catetere attraverso cui nel caso passa l'energia che viene erogata per terminare l'episodio di arresto cardiaco inoltre in questo caso abbiamo posizionato questo cateterino che servirà per l'angiografia e questa che è un altro introduttore lungo che ci agevola in certi mappaggi questa piccola sondina questa piccola piattaformina che vedete qui è posizionata in atrio destro ed è la sonda che rileva attraverso gli ultrasuoni quindi la sonda dell'eco intracardiaco che vedremo fra un po' ci fornisce delle immagini ad integrazione di quello che visualizziamo o mappiamo questa è in movimento la ventricolografia destra voi vedete che il contrasto si distribuisce l'occhio esperto riconosce delle zone che si contraggono meno bene o addirittura aneurismatiche dove il contrasto in particolare ristagna questa è esattamente la stessa cosa fatta da un'altra posizione quindi un'altra proiezione che ci consente di avere di acquisire altri dettagli o altre informazioni sulle caratteristiche di questo aneurisma in questo caso questa è già una ricostruzione elettronatomica della cavità e questo è quello che corrisponde dal punto di vista ecocardiografico a questo piano eco che è disposto sulla mappa elettronatomica vale a dire una ricostruzione tridimensionale effettuata da me col cateter all'interno a cui si affianca a cui si combina un contorno anatomico rilevato da una sonda eco e qui vedete in movimento il cuore il ventricolo destro il catetere che passa attraverso il ventricolo destro e questa porzione aneurismatica che viene visualizzata anche dalla mappa elettronatomica la mappa elettronatomica rappresenta poi veramente la così la cartina dettagliatissima che ci permette di distinguere miocardio sano quindi perfettamente vitale miocardio esito di un infarto o di una comunque di un processo degenerativo che rende che trasforma il muscolo da muscolo a cicatrice e queste sono le zone più così interessanti dal punto di vista dell'elettrofisiologo le zone che hanno perso di così di vitalità ma che sono che non essendo ancora propriamente delle scar quindi del tessuto rinsecchito hanno ancora delle caratteristiche di conduzione che tipicamente danno origine all'aritmia che quindi rappresentano il cortocircuito attraverso cui gira l'impulso cardiaco in modo anomalo e quindi il ritmo diventa un ritmo anomalo questa è la ricostruzione ancora con l'aiuto dell'eco di questa della cicatrice di questo aneurisma della porzione basale del ventricolo destro il rosso rappresenta tessuto totalmente necrotico per quello che riguarda la mappa come visualizzato dalla mappa endocardica il viola rappresenta un tessuto normale e il contorno è appunto la zona borderline come diciamo noi da cui originano le aritmie o da cui possono originare le aritmie poi il quadro completo dei punti che vanno colpiti che devono essere colpiti per eliminare l'aritmia viene fatto aggiungendo altri tipi di mappaggio e validando poi la lesione efficace effettuata con questi bisturini i bisturini i cateteri da elettrofisiologia lavorano come i bisturini in realtà il meccanismo è quello di una punta che si scalda che per come è irrigata per come viene resa efficace l'ablazione l'erogazione di radiofrequenza raggiunge anche delle porzioni profonde di tessuto eliminando quindi questa in particolare la porzione malata di tessuto muscolare eliminando il meno possibile ma essendo sicuri di ottenere il miglior risultato diverse proiezioni che nel dettaglio nei rapporti rispetto alla valvola rispetto all'anatomia del ventricolo destro ci chiariscono dove si è sviluppato questo aneurisma basale che è dovuto a una forma particolare di cardiopatia sulla destra con difficoltà e ovviamente prendete per buono quello che vi dico la lettura del segnale conferma che si tratta di un segnale anomalo che virtualmente può dare origine alle aritmie ma la parte più bella è poi osservare il percorso dell'impulso durante l'aritmia questa paziente aveva addirittura 5 aritmie molto veloci quindi molto difficili da trattare in cui il riconoscimento di particolari segnali mentre l'aritmia va consente di riconoscere di essere nel posto migliore e terminare l'aritmia avendo quindi una conferma di essere nel posto giusto ovviamente quello che noi auspichiamo è in particolare grazie all'utilizzo di questo tipo di mappa e di dettaglio anatomico di avere una conoscenza e poter intervenire sul substrato in modo da eliminare tutte le aritmie e questo è possibile appunto grazie all'unione di informazioni e a una tecnologia decisamente competitiva e sempre all'avanguardia vediamo anche il follow up nel tempo dopo un intervento del genere che tipo di percorso segue il paziente il paziente è un paziente che dopo una procedura del genere in considerazione del tipo di procedure della cardiopatia viene mantenuto in terapia semi-intensiva o comunque in una forma di monitoraggio molto molto stretto per almeno una settimana sono pazienti se parliamo se parliamo dei pazienti con cardiopatia avanzata e con storm aritmico che ovviamente hanno già una macchinetta che viene mantenuto assolutamente e che serve per monitorare la comparsa di eventuali nuovi episodi consideriamo che adesso nella maggior parte dei casi questi pazienti vengono monitorati in relazione a questa macchinetta non soltanto con i controlli ambulatoriali che prevedono il fatto che un medico o un ingegnere si avvicini e verifichi cosa è successo nel periodo considerato ma mandano addirittura via telemetrica dei segnali per cui anche episodi minori che possono fare un po' da campanello d'allarme in vista di una degenerazione di uno sviluppo sfavorevole del quadro ritmico vengono riconosciuti e il paziente può quindi essere trattato il più precocemente possibile questo ovviamente vale anche o dovrebbe valere anche per pazienti che non hanno ancora fatto esperienza quindi per non arrivare alle condizioni così estreme dottore la ringraziamo moltissimo perché abbiamo effettivamente potuto vedere che le fibrillazioni ventricolari che sono considerate spesso intrattabili invece oggi non è proprio più così e quindi anche pazienti che hanno una problematica importante se si rivolgono a un centro di riferimento possono avere la possibilità di essere presi in cura a 360 gradi che poi in patologie del genere credo che sia la cosa più importante assolutamente assolutamente sì vi ringrazio mi dà spunto per due brevissime considerazioni la prima è proprio che il miglioramento della qualità e della quantità di vita di malati di pazienti con cardiopatie anche severe deriva proprio da un lavoro sinergico da una collaborazione tra i diversi sembra strano dirlo ma tra i diversi settori della cardiologia quindi questo tipo di aritmologia di elettrofisiologia gli specialisti di aritmia ventricolari gli specialisti come noi siamo elettricisti dell'idraulica quindi gli emodinamisti in modo che in termini di prevenzione e di cura si possa ottenere sempre il massimo e seconda cosa devo dire mi fa piacere parlare di aritmie ventricolari ripeto questo comprende non soltanto i pazienti che ovviamente sono già seguiti e già ampiamente conosciuti da clinici da specialisti eccetera con gravi cardiopatie ma l'aritmia ventricolare nella sua minoranza di aritmia benigna rappresenta comunque un argomento di grande interesse e meritevole di grande attenzione perché tantissime persone assolutamente sane soffrono di questo tipo di disturbo e molto spesso non sanno neanche esattamente da cosa sono affette e quindi informarli e poi trattarli anche se è il caso può essere effettivamente un guadagno per il benessere sociale assolutamente e più tempestivamente si interviene sicuramente meno danni si trovano poi a dover gestire assolutamente dottore grazie mille buon lavoro grazie a voi grazie